ben ritrovati dagli followers della fairy family film è un video che stiamo annunciando da tempo non solo dalla live di questa settimana ma anche già dagli ultimi video come sapete se ci seguite se seguite il cinema insomma ci stiamo avvicinando anzi siamo ormai ridosso all'evento clou dell'anno degli oscar cioè la notte la notte degli oscar in cui verranno segnate le statuette tanto un tanto agognate siamo vicini avverrà nella notte per noi tra domenica e lunedì seguiremo ai noi per il nostro sonno la notte degli oscar facciamo come di consueto negli ultimi due tre anni ormai il terzo anno forse questo che facciamo questo genere di lavoro due video ecco due video questo che state vedendo adesso sarà un commento diciamo così dei film dieci film che sono candidati a miglior film esce oggi appunto domani uscirà invece un altro video un po più diciamo gioccoso con i nostri pronostici sulle categorie principali lascio per te l'onore di cominciare presentare il primo film e questa sarà divisa anche in ordine di gradimento dal film che ci è piaciuto di meno quello che ci è piaciuto di più partendo dal incredibilmente incredibilmente siamo d'accordo quasi sul teso diciamo assolutamente partendo dal film che ci è piaciuto di meno quando abbiamo nemmeno dovuto pensare si tratta di west side story non è solamente il film il diciamo peggiore tra questi penso che sono dei film peggiori in assoluto usciti nell'anno scorso perché fa veramente fa veramente pena come film non so come abbia dovuto vincere alcuni premi anche sulle golden globes non so come abbia fatto di essere un film comunque abbastanza apprezzata perché è un film fondamentalmente senza capo né coda senza senza senso con dei buchi e trame impressionanti dialoghi scandalosi appena appena salvato quella da qualche canzone che però dopo un po' diventa altamente ridondante insomma veramente un fallimento artistico non di poco conto da parte di Steven Spielberg quindi è un film veramente assolutamente bocciato e indegno di essere in questa categoria per quel che ci riguarda Spielberg è assolutamente un personaggio potente lo si sa per cui ecco risposta alla tua domanda chissà come ha fatto vincere diversi premi è sicuramente questa dipende sicuramente dalla sua potenza andiamo avanti andiamo avanti con King Richard diciamo così in questa nostra scalata ecco ci tengo a precisare che diciamo il passaggio tra West Side Story e King Richard almeno personalmente è un passaggio abbastanza ampio tra West Side Story non mi è piaciuto quasi per nulla King Richard invece mi è piaciuto mi è piaciuto anche abbastanza però ecco gli altri film sono ancora più belli diciamo così anche se possiamo dirlo subito non si tratta di un'annata memorabile e clamorosa però insomma ecco ci tengo a segnalare questa questa distanza King Richard è il classico film sportivo diciamo così che racconta le vicende della famiglia Williams celebri tenniste Serena e Venus Williams più incentrato in realtà sulla maggiore delle due Venus più che su Serena e soprattutto sul padre delle due sorelle questo Richard questo King Richard interpretato a Will Smith è un film molto tradizionale ecco all'interno della cornice sportiva cioè tutte le dinamiche che conosciamo che abbiamo imparato a conoscere anche ad apprezzare in tutti i film sportivi da da Rocky da Karate Kid dove c'è una dinamica insomma maestro allievo in questo caso il maestro e il padre però insomma la dinamica è assolutamente quella ecco ritornano in questo film per cui non c'è nulla di nuovo però è godibile Will Smith da un'interpretazione veramente veramente importante ne parleremo nel video degli pronostici domani e il film è piacevole piacevole non trascendentale come si suol dire però piacevole successiva posizione abbiamo invece Don't Look Up anche questo film che abbiamo apprezzato ci abbiamo già fatto una recensione quindi non mi dilungo più di tanto insomma film catastrofista che è la scuola di questa cometa per fare diciamo per parlare fare un po' di satira e parlare insomma di problemi attuali come scaldamento globale cambiamenti climatici e cose del genere un film ben fatto non un capoloro non è eccezionale però un film che fa riflettere un film che fa discutere un film che ha avuto anche un grandissimo successo di pubblico un film insomma che per quanto non è eccezionale merita comunque di stare in questa categoria e non dico che potrà dire la sua come per modo di dire anche da quanti pari pronostici però sicuramente un film molto molto gradevole andiamo avanti Nightmare Alley film che più o meno sta quasi lo stesso livello di Don't Look Up Guillermo del Toro torna agli Oscar è sempre un personaggio amato apprezzato cercato dall'Academy tutto il cinema messicano diciamo molto apprezzato dall'Academy Guillermo del Toro che sguazza assolutamente nel suo elemento diciamo così nel freak show nel circo nel noir nel crepuscolarismo diciamo così in quello che come dire c'è di strano nel mondo è un film che personalmente ho sentito forse un pelo lungo un pelo lungo un po' lento in certi momenti per quel che racconta ma il comparto tecnico innanzitutto quindi fotografia musica è assolutamente di primo piano la fotografia insieme a Dune di cui parleremo forse una delle migliori di questi film degli Oscar e c'è poi la componente musica di storia noir con Brabile Cooper protagonista ecco abbastanza intrigante abbastanza intrigante ecco del Toro probabilmente non vincerà un tubo diciamo già adesso ha preso tutto con la forma dell'acqua qualche anno fa però insomma è sempre una piacevole scoperta esatto poi il successivo film di cui parliamo è Il potere del cane film western con protagonista Benedict Cumberbatch questo film che probabilmente farà più parlare di sé in Notte degli Oscar un film che è stato molto apprezzato ha avuto un grande successo ma che a noi personalmente non ha convinto più di tanto nonostante gli meriti di questo film gli manca quel qualcosa per essere un grande film per convincere del tutto non è però un film orribile non è un brutto film è un film che se vincesse qualcosa addirittura il premio grosso non sarebbe una cosa scandalosa soprattutto se si considera il fatto che siamo in una annata debole ecco abbiamo questo western così particolare che per certi versi convince ma non senza qualche difetto qualche problema facciamo una parentesi diciamo che quasi tutti i film di cui stiamo parlando li trovate sul nostro canale o come recensioni o come shorts quasi tutto insomma l'abbiamo recensito se volete siete curiosi di sapere qualcosa in più trovate tutto andiamo avanti andiamo avanti Dune il mastodontico film di Nesville Neuve casta di primo piano da Timotino Chalamet Prezzemolino Oscar Isaac film molto grosso molto grosso grosso negli intenti prima di tutto ma poi anche nella realizzazione mi sbilancio dire che anche in questo caso probabilmente vincerà molto poco nessun premio grande forse la fotografia forse la colonna sonora di Hans Zimmer però è un film di fantascienza molto molto intrigante ci presenta una realtà diciamo così un universo dei mondi nuovi per quanto ormai siamo come dire abituati a vedere fantascienza da Star Wars poi con tutte le serie che soprattutto in questi ultimi mesi e anni stanno proliferando sull'argomento però insomma vincerà trovare la sua strada trovare il suo percorso e devo dire essere abbastanza intrigato da un possibile anzi da un sicuro se quel due se quel fosse che sono già in programma sì 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 un film che ripensassi mi ha continuo a lasciarmi diciamo una buona impressione quindi nonostante non mi abbia estasiato nell'immediato mi ha mi ha sicuramente mi ha scelto il tempo il successivo film di cui parliamo è il film Coda uno dei film che sta facendo molto bene la volata agli Oscar nel senso che è partito molto in sordina e sta crescendo come nome in questi ultimi giorni in queste ultime settimane è un film molto molto carino ecco è un po' un il gioiellino di quella stagione di questa stagione dei premi nel senso che è un film molto semplice una storia molto vicina comunque perché è in una scuola in un liceo con una storia molto americana il diciamo spettacolo di fin anno ha un po' queste dinamiche ma si concentra anche sul tema della disabilità in questo caso della sordità essere cosa vuol dire essere l'unica persona che sente in una famiglia di sordomuti ecco questo porta a delle dinamiche familiari rende un po' più complesse le dinamiche familiari che comunque ci sono ci sono ci sono sempre questo quindi riesce a sviscerarle molto bene renderle molto bene film molto ben fatto con delle recitazioni anche di di alto livello niente di recitazione non è un capolavoro però un gioiellino sicuramente sì un film molto bello molto carino da guardare un film che comunque che scalda il cuore senza essere comunque buoni si stava sdolucinato quindi veramente molto molto apprezzato sulle corrispizza non mi soffermo più di tanto perché un paio di settimane fa dieci giorni fa è uscita la recensione tra l'altro che ho fatto per cui se siete curiosi già trovate di tutto dico solo insomma che mi sarei aspettato di parlare di questo film come del capolavoro dell'anno del film che non vincerà niente ma che avrebbe dovuto e avrei voluto vincesse tutto come era col filo nascosto qualche anno fa purtroppo non è così mi ha lasciato un po' più freddo non sono riuscito ad entrare emotivamente così a fondo come avrei voluto e mi sarei aspettato in questa storia d'amore d'amicizia molto particolare disegnata in maniera eccellente come sa fare Paul Thomas Anderson ecco però non sono riuscito non sono riuscito ad entrare è un bel ritratto un bel ritratto di un certo tipo d'America di una generazione più generazione di un certo tipo d'America non è un capolavoro purtroppo non è un capolavoro però sì sono sono pienamente d'accordo mettiamo in cima al vertice di questa nostra classifica il film di Kenneth Branagh Belfast un film bianconero un film incredibilmente elegante un film molto ben scritto che racconta con grande delicatezza e appropriatezza una pagina comunque molto difficile della storia inglese è mettato quindi a Belfast le lotte tra cattolici protestanti tra unionisti e lealissi ma c'è tutta questa situazione qua dietro vista però attraverso gli occhi di un bambino attraverso gli occhi di una famiglia che deve prendere una scelta molto complicata restare a Belfast lasciare la città cast veramente molto buono grande recitazione regia molto sicura sceneggiatura ottima è veramente un film di grandissimo impatto anche questo non mi rischia di dire che si tratta di un capolavoro però è veramente veramente un film un film ottimo se qua diciamo dovessi sbilanciarmi già a dire non vincerà molto probabilmente la statuetta per il semplice fatto che non è un film americano che ha a che fare con una storia e un contesto poco vendibile in America soprattutto in questo momento perché lotte di religioni tensioni tipiche insomma della situazione britannica hanno poco da dire all'Academy in questi anni di questo periodo e quindi anche per questo motivo non potrà dire la sua però a livello di merito di qualità sicuramente meriterebbe di tornarsene a casa con una statuetta anche la più importante aggiungo storia semi-autobiografica di Kenneth Branagh della sua infanzia insomma a Belfast chiudiamo la lista dei dieci film candidati come miglior film con diciamo così i film straniro tra virgolette ma neanche troppo Drive My Car regista non mi addentro nel provare a pronunciare il nome giapponese comunque film che è candidato anche contemporaneamente nella categoria del miglior film internazionale come un paio di anni fa anzi due anni fa giusti Parasite che fece il colpone vincendo tutto film regia film internazionale quest'anno Drive My Car molto bello molto elegante ordinatissimo armonico come direi sarebbe forse un po' troppo pregiudizioso solo i film orientali sanno fare ecco però ecco visto Parasite due anni fa io dubito dubito anche perché questo film non ha avuto lo stesso impatto la stessa risonanza che aveva avuto Parasite dal tempo perché per quanto bellissimo diciamo così perfetto formalmente ma anche dal punto di vista della sceneggiatura veramente ottimo io dubito possa ambire alla statuetta maggiore si deve accontentare diciamo così del film internazionale che comunque buttalo via ecco per questo video è tutto fateci sapere nei commenti insomma che film avete visto cosa ne pensate se avete un favorito noi qui ripeto abbiamo solo parlato dei migliori film domani uscirà video in cui faremo i pronostici e ci addentreremo in altre categorie ecco però intanto fateci sapere cosa ne pensate noi ci vediamo domani appunto con il nostro video imperdibile sui pronostici degli Oscar ciao